Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ha chiuso il tratto tra Barberino e Aglio per lavori. Sulla A11 per traffico intenso ci sono rallentamenti in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare per lavori e rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno e tra Ponte dell'Este e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. Sul raccordo Siana-Firenze per lavori e rallentamenti in entrambe le direzioni tra Monte Rigioni e Badesse e tra l'allacciamento a 1 di Firenze-Imprunita e lo svincolo di Imprunita-Greve-Inchianti. A causa dei danni del maltempo sono ancora chiuse la statale 2 Cassia a San Quirico d'Orcia, la statale 12 della Betone del Brennero a Borgo a Mozzano e la statale 62 della Cisa a Pontremoli. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!